Salve a tutti, siamo sempre i Game & OverTube e oggi vi presentiamo The Raid Hostel, un gioco indie horror che dicono... Andiamo da esco parere, chi ci può perdere? Fa troppo paura, davvero. Giochiamo! Giochiamo! Allora, facciamo così. Veloce! Dove vado? Destra o sinistra? Vado dove ti porta il cuore. Facciamo. Amblin blocce la lince e la lancia, quanti fiori ci sono! Cambiamo il suono d'odio! Va a destra! Va a destra! Va a destra! Va a sinistra! Oh oh oh! Breakdance! Tossa! 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 Bello! Cos'è? Mezzo bello! Hostel sarebbe ostello, quindi... Piccolo hotel, cretino, stupido... Ah! Sembra il mio armadio! Credibile! Insomma, mica tanto! Lentico! Vabbè! Niente più bello! 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 Che cazzo di luce c'ha questo vicino al pollice? Ah no! Ha la lampadina che si accende così! Io pensavo ce l'avessi tipo su un dito! Cioè, sei proprio inutile, sei! Schifo! Schifo! Bam! Sorry! Sorry! Ro nadie! Ho bene pazienza! Oh! 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 Che cazzo è? Che era? Che è successo? Parca puttana Che è il casera, casera Casera Il cuore Partito una coronaria Te l'ho detto io, è schifo Che ruolo, mi adoro Secondo me sono stupendi Però in queste occasioni Vai, 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 sempre Non posso tipo Dormire Colicarmi qui e aspettare la mia morte in silenzio Tipo come in posizione fetale Brutto grido di brutto 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 No, un'altra volta Bene, devo andare Fottiti Le canzoncine di Natale a maggio Io le schifo, basta Tarantana 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 Ho capito, non devo andare di Natale Spettila Puoi correre, lo sai, vero? Sì, sto premendo shift Questo vuol dire correre per lui Bene Sta correndo Andiamo di qua No, buono No, buono Mi dispiace C'erano un fratello Per me Eri con un fratello Io lo conoscevo Anche se Non dovete trasportarci Come andate in medico Aspetta, devo fare La linea più sotto Che credo Non avrei spostato la serie In media Bianconata Ma che cazzo Dice Marrone nelle mutande No, non vi conoscere Basta Sei una merda ma c'è uno scopo del gioco non lo so a me l'islanda c'è una tua pagina qua che c'è da prendere la pallina sempre cioè il prossimo attacco di culi sono morto non ce la faccio più davvero pataterna e il gennato sta a cambiare mutande me lo sogno una notte a questo ma questa è la reception scusi una camera vuota ma siamo di nuovo qua se vado di là sono il carillon basta se me dobbiamo andare dove sono il carillon tipo dobbiamo seguire un no di nuovo un'altra scatola rotta brutto sto silenzio basta mi metti più ansia del gioco brutto gioco cattivo gioco cattivo gioco di mierda veloceco ma da ci comparemo davanti no mi sembra qua no siamo già da vuoto sto morendo c'ho l'ansia tipo anche nei peli del naso il cuore che mi batte tipo colibrino fa un po' come si parla sono acce e bianca si sicuro ma dopo com'è brutto mamma mia compaia l'improvviso proprio il mio slender tu lo vedevi da lontano devi scappare questo no ti comparemo cretino che ha messo a sti tavoli qua chi è stato ma non riesco a capire perché poi compariamo sempre nella reception cioè non muoio non ho capito perché paccato perché questo se noi sta soffrendo veggi noi è un altro riposso va a far vedere l'intromarcia va ma comunque c'ho una paura fottuta di girarmi ogni volta è una cosa disomana io non sto capendo dove devo andare sto girando come se fossi un minchione ma ci stanno porte ma non c'era possiamo tipo controllare non so gli armadietti dobbiamo trovare qualche chiave qualche cosa ti dici e siamo girando a vuoto proviamo a vedere in questo armadio se possiamo aprirlo possiamo fare un cazzo no però no sei sudata la luce ah minchia donna oh 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 non ti confondere con i tasti oh 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 cosa è successo alla luce oh perché la luce sempre mi si è diventata power up fosforescente power up che hai fatto tieni più il mudo? forse no boh vabbè vai punti non lo so non lo so come ci sono riusciti salve io vado di qua di qua siamo andati no no non lo so no va 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 è tanto è andato sul tavolo aspetta prima del tavolo tu siamo andati dritto o a destra no ricordo puoi andare a destra è andato a mano vedi secondo me quando si illumina la luce vuol dire che dobbiamo seguire dici penso sto da canna ma fa molto ghostbuster la versione molto molto ghost mutande ormai ghost mutande no si no si qua si qua che? si qua bravo no dislessia portami via dislessia portami via dislessia portami via dislessia portami via che ti stiamo a zappare va zatta nooo uno nooo cuccia un altro piccolo cieco allora non ci vado di qua eh no 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 non ti girate i propri soffi per favore non c'è altro modo per girare se è quella cosa corri 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 non mi pare in più però fa ancora in più ansia si perché la sua volta l'esce è bassa chiangela non ce la faccio più vi prego che cazzo di gioco è che brutto madonna portateci una bomba d'aria ok qua si va qua si illumina provo ad andare di qua si va si 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 va si va si va provo ad andare di qua sto tremando che assurdo no un altro piccolo cieco eeeh posso farmi la lettermarcia posso farmi la lettermarcia posso farmi la lettermarcia oh di qua si va di qua si va sembrava un letto va mmmm culo o o la musica cambia silenzio troppo silenzio ok c'è la tavola amba la balcicci no non si può fare amba la balcicci ah no quello è un letto si vede bene è una po- ah l'armadio ma pensavo adesso no tanto lui compare è un giocherellone a lui piace comparire destro sinistra sinistra vai sinistra perché abbiamo ok destra sempre destra eeeh aah maaaa basta 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 io mi attendo se vuoi continuare per questa cosa oh no continuiamo continuiamo no 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 basta ti prego non ha senso questo gioco Devo capire Il cuore ce l'ha a mille Devo capire Devo capire Dove andare Ti vuole cominciare Ti amiamo Ti amiamo Oddio mio Un piccolo cieco Oddio Ma provate Ma c'è qualcosa Nei piccolo ciechi Non c'è Non c'è niente Puttanzia Non può fare niente Andiamo di qua Corri nudo Ti sembra corromo Del signore degli anelli Cugino infame Lui è un figlio di Satana Lui è Satana Belzebù assieme Oh mio Dio Sono sbiancato Ha tipo Il cuore che mi sta battendo Nel cranio Basta Se ci compare l'ultima volta Basta Basta Sincero Tavolo dal biliardo Facciamoci una partitina No Però stai Dai Facciamoci una partitina Biliardo Io sono forte Non è vero Sono una pippa Vai di qua Non spuntare Non spuntare Non spuntare Non tocare No Sto digerendo tutta la colazione Tutta No No Sono già digerita Oh 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 Non lo fare mai più Non lo fare mai più Vai 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 Sono più forte di te Non è vero Destra Sì vai a destra Che cazzo Ok la luce Cos'è Un cesso Si Per cagarsi No brutto In bagno Vai vai nel bagno Tra i indagini Allora il bagno Che si muove No 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 Basta No Basta Hai vinto Basta 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 salvo ho messo salvo basta salvo ma boh 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 ho video che ci si origine l'aradale ho dato a dire se io almeno che mi piace commentare se non mi sa che magari non fa niente andate a trovare il diritto di garza sicuramente provatelo Continua a sudare Niente Lasciate nei commenti qualche gioco o qualcosa Che potremmo provare E noi saremo felici Da casa mi devo andare a fare la doccia Ci vediamo alla prossima E ciao a tutti